Un contratto collettivo nazionale in attesa di rinnovo da 14 anni ed un trattamento economico giuridico da adeguare a quello ricevuto dai colleghi della sanità pubblica. I lavoratori della sanità privata coordinati da Cigelle, Cisle e Will si sono ritrovati davanti alla prefettura della BAT per gridare a gran voce il proprio disappunto per una situazione ormai insostenibile. Per noi oggi è una manifestazione, un momento di confronto, incontro e protesta in preparazione allo sciopero nazionale del settore, già proclamato e che ci stiamo organizzando per il mese di settembre, per chiedere all'associazione datoriale, in particolare IOPARIS, la ratifica della preintesa già sottoscritta il 10 giugno di quest'anno. Per noi la sanità è un settore importantissimo, la sanità privata accreditata, convenzionata con la regione, con le regioni, con la regione Puglia e in tutta Italia ha un valore in assoluto rispetto ai servizi che vengono erogati alla cittadinanza ed ecco perché riteniamo che i lavoratori non possono restare senza un contratto collettivo nazionale di lavoro da circa 14 anni. Entrando nel dettaglio della realtà della BAT, situazione particolare è quella legata all'azienda Universo Salute di Biceglie, emblema delle difficoltà di un comparto in grossa crisi per il mancato rinnovo del contratto. In particolare abbiamo una situazione nel nostro territorio che è Universo Salute, opera Donuva, dove si sta attendendo il cambio di contratto in maniera unilaterale, quindi riteniamo che sia oltre che vergognoso anche scandaloso. Le categorie sono tutte quelle del settore privato perché di fatto loro garantescono il servizio, quello che è il diritto alla salute sancito dell'articolo 32 della nostra Costituzione e non hanno un contratto. La mobilitazione della sanità privata proseguirà con assemblee sit-in nelle strutture ARIS e AIOP in calendario il 31 agosto e poi con uno sciopero nazionale. Nel frattempo dalle istituzioni arrivano rassicurazioni. C'è l'impegno già veramente espresso in precedenza rispetto all'avvertenza aperta con Universo Salute e opera Don Pasquale, Uva, e il prefetto si è assunto l'impegno di rappresentare le nostre istanze e rivendicazioni ai livelli superiori, vi compreso il livello regionale e il livello nazionale.